Ciao amici di Italia Top Games, questo video è dedicato alla scelta che ho fatto per la TV per PlayStation 5 e Xbox Serie X. Allora, voi dite, ma com'è la TV per PlayStation 5 e Xbox Serie X che escono fra almeno due mesi? Certo. Però io sono un tipo previdente che vuole fare le cose con calma, quindi ho deciso adesso prendo la TV, poi fra un paio di mesi quando escono le console installiamo una console, l'altra, i collegamenti, i cavi, sistemazioni sulla scrivania eccetera eccetera. Quindi ho deciso, quest'estate sono stato un paio di mesi con vari amici, anzi saluto anche Roberto con cui abbiamo scambiato tantissimi messaggi per arrivare a questa scelta. E allora, due considerazioni iniziali prima di entrare nel merito. La prima è che questo assolutamente non è un contenuto brandizzato, sponsorizzato dalla marca di cui ho scelto la TV, perché la TV l'ho dovuta prendere con i soldi estratti dal mio conto corrente, quindi assolutamente non è un post sponsorizzato, è una scelta che ho fatto dopo appunto tante tante ore di riflessioni perché la spesa non è stata esigua, diciamo. E l'altra considerazione è questa, ho realizzato vari articoli sul nuovo sito italiano Gamesplay Next Gen sull'argomento TV e ci sono state varie reazioni anche abbastanza forti su cui molti non erano d'accordo. Quasi che la TV ha scatenato più polemiche della diatriba PES versus FIFA, le polemiche su PES ogni anno eccetera. Quindi vorrei dire questo, ognuno è libero di scegliere la TV che vuole, chi vuole può anche giocare col tubo catodico se PlayStation 5 e Xbox Series X funzionano, con una TV HD radio o full HD. Questa è stata la mia scelta in base a una serie di riflessioni che adesso vi pongo, ma ripeto, è soltanto un'opinione fra le tante. Allora, la scelta è nata, la prima grande discriminante per scegliere la TV ad hoc per PlayStation 5 e Xbox Series X era questa, la presenza di porte HDMI 2.1. Questo aspetto, secondo me, se volete veramente sfruttare appieno le nuove console di Sony e Microsoft è fondamentale perché sostanzialmente sono le porte che vi consentono di sfruttare tutte le features Next Gen delle nuove console. Cioè un refresh rate più alto, sono tantissime le possibilità che dà l'HDMI 2.1. Nella descrizione del video trovate questa guida sintetica che ho fatto, ma se poi ne volete una ancora più approfondita, basta che cercate HDMI 2.1 su Google e troverete a guida ancora più esaustive. Però ecco, se volete una prima infarinatura su cosa significa HDMI 2.1, trovate il post. Allora, a quel punto scelta, scelta per forza di cose una TV HDMI 2.1, qualcuno ha detto no, il monitor è meglio, ma per carità scegliete il monitor, io avevo bisogno di una TV per le mie esigenze, che quindi non fosse soltanto monitor. Poi sul discorso dei tempi di risposta eccetera eccetera, in realtà queste nuove TV appunto con l'HDMI 2.1 arrivano a un MS di ritardo che è sostanzialmente simile a quello delle TV, perché poi ecco le TV hanno anche la sincronizzazione in video, FreeSync, DMD eccetera eccetera. Quindi questi due mondi si sono molto avvicinati, dopo ognuno fa le sue scelte. Io avevo bisogno di una TV. Detto questo, quindi HDMI 2.1, ovviamente 4K, perché altrimenti non ha senso, secondo me, prendere nuove console almeno al Day One. Io non ho PS4 Pro, faccio direttamente il passaggio dalla PlayStation e da Xbox One del Day One alle nuove console e voglio godermi appieno i 4K e ovviamente l'HDR. E lì c'era il discorso di dove muoversi, sui LED, sugli OLED, sui QLED di Samsung, sui full array di Sony. Sono stato un po' in negozi in giro, non solo in provincia, anche in regione per vederli un po' tutti e alla fine la mia scelta è stata assolutamente sull'OLED di LG. Secondo me, tra gli HDMI 2.1, l'unica LG che ce li ha o pochissimi altri, adesso non me li ricordo neppure. Però la visione rispetto alla concorrenza appena citata, secondo me, è fuori discussione che sia la migliore, quella di LG, rispetto appunto a qualsiasi televisore LED, ai QLED di Samsung e ai nuovi full array di Sony, che sono belli, bellissimi, in carità, tutti belli, anche il QLED di Samsung, eccetera. Però, dovendo prenderne una di TV, ho scelto l'OLED di LG, scusate. A quel punto io ho scelto la 55 pollici, nell'ultima versione c'è anche la 45, oppure c'è il 65 pollici, perché ha più spazio. Io, come dire, non l'ho messo in salotto, mi serve in studio, dove ho il PC e tutto, dove faccio questi video, dove recensisco i giochi, dove lavoro per altre aziende. Quindi avevo bisogno di avere tutto a portata di mano e dove sostanzialmente devo avere una TV che ha 65 pollici, non mi entrava e quindi 55, ma vi assicuro che non è affatto piccola, 55 pollici. Detto tutto questo, io sono andato a scegliere non le TV del 2020 di LG, ma quelle del 2019, più specificatamente la serie 55C9. Ci sono tre varianti di queste C9. La più, come dire, più diffusa è la 55C9 PLA. La mia è una 55C9 MLB, le differenze sono veramente ridottissime, il colore e poco altro. Era un'offerta interessante, molto vantaggiosa e ho deciso di prendere quella. Altrimenti c'è una terza variante, che è la 55C9 PLA, che ha un prezzo leggermente più alto rispetto a queste, ma anche un audio migliore sostanzialmente, leggermente superiore, diciamo, non incredibilmente migliore. Vi starete chiedendo perché propendere per un TV vecchio di un anno rispetto a quelle attuali. Beh, il motivo principale, ve lo dico sostanzialmente, è il prezzo. I modelli OLED LG del 2019 rispetto a quelli del 2020 costano all'incirca un quarto in meno. Ovviamente è chiaro, una TV un po' più vecchia e quindi è un gap non del tutto indifferente, il 25%. Se poi siete ricchi sfondati, prendetevi il 95 pollici di LG 8K, fate quello che volete. Io ho fatto una spesa importante, quindi mi auguro che questa TV mi duri per i prossimi 62 anni, però ho risparmiato il 25%, un quarto, all'incirca 500 euro, perché le TV OLED 2020 costano all'incirca 2.000 euro, questa io l'ho pagata al di sotto dei 1.500 euro. Detto questo, voi dite, beh sì, però deve essere un investimento a lungo termine, forse ti conveniva spendere di più, ma avere una televisione migliore, nettamente migliore, dopo dovrai cambiare. Beh, io sto alle parole di molte recensioni trovate in rete, tra cui gli amici di EveryEye, dove ho scritto tanti anni fa, un paio d'anni per la redazione IPC. Saluto tutti gli amici di EveryEye che mi ricordano, anche se sono passati veramente tanti anni. Allora, EveryEye scrive, rispetto a C9 il salto in avanti è minimo a livello di qualità di visioni, dal resto i televisori OLED sono prodotti ormai maturi, difficile apportare migliorie significative di anno in anno. Quindi sta dicendo EveryEye che la differenza tra il C9 e il CX, i modelli nuovi degli OLED, sono davvero minimali. Ci sono, ci sono, alcune differenze sono notevoli. Ad esempio, il processore del televisore nella CX è di terza generazione, nelle C9 sono di seconda generazione. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente quelle del 2020 sono superiori. Però, e questa è una cosa importante, il nuovo CX perde pure qualche feature rispetto a quelle del 2019, tra cui un dato interessante, ovvero la banda massima di trasmissione raggiungibile dall'HDMI 2.1. Quindi è una cosa molto legata alla questione videogiochi. Io non sono così esperto da dirvi esattamente quanto possa arrivare PlayStation 5, Xbox serie X, perché qualcuno in rete ha parlato di un problema soltanto teorico, questo ristringimento di banda massima di trasmissione. Però, non si sa mai se comunque esiste una banda superiore, io il fatto che abbia questo elemento in più la mia TV rispetto a quella del 2020, mi fa ancora più contento di aver risparmiato appunto quasi 500 euro. Inoltre il CX perde pure il DTS Digital Surround. Quindi questo è un altro aspetto che comunque, da un punto di vista dell'audio, assolutamente non è del tutto indifferente. Poi io non sto dicendo che quelle del 2019 siano migliori del 2020, sia chiaro. Se però volete fare una spesa importante, ma al contempo risparmiare, vi sto dicendo che potete risparmiare all'incirca il 25%. Stavo parlando di audio. Allora, parliamo subito dell'aspetto meno convincente di questa C9 DLG, l'audio. Non è male come audio, assolutamente, però i bassi non sono incredibilmente potenti. Ci sono delle cose buone, il surround è ottimo. Ho subito messo Star Wars, l'effetto, il respiro di Darth Vader era così presente nella stanza che mi sembrava di sentire l'alito addosso di Darth Vader sulla mia faccia. Vi assicuro, l'effetto è bellissimo. Però devo dire che qualche mese fa ho ascoltato l'audio di una OLED di Sony che purtroppo non aveva il 2.1, era di tutt'altra qualità. Questo quindi sappiatelo e magari potreste abbinare alla TV una soundbar o un impianto esterno audio per migliorare l'audio. Io per il momento sto bene così, uso le cuffie per utilizzare PlayStation 4, Xbox One, quindi, come dire, a me va bene così l'audio, però vi volevo mettere al corrente di questo aspetto. Poi ho provato la TV, ovviamente. Allora, io vi assicuro che portare a casa un TV OLED e vedere al suo massimo splendore i4K Ultra HD in HDR è un'esperienza che dovrebbero fare tutti nella vita. Mi è sembrato di essere come in montagna quando c'è poca gente, c'è il cielo sereno e si respira bene, cioè proprio ti fa entrare nell'immagine, ti pare di veramente essere lì dentro una saturazione dei colori eccezionali, non lo so, è un'esperienza che solo facendola si può vivere. Avevo visto queste immagini in negozio, ma in negozio c'è sempre la paura che sia tutto un po' artefatto, le luci sparate fuori, magari dei setup particolari per cercare di tirare fuori tutto in maniera un po' eccessiva. No, cioè non era niente di falso, era tutto vero, cioè l'OLED trasmette, oltre al fatto del nero, davvero nero, trasmette una sensazione incredibile, incredibile di bellezza, di bellezza. Veramente è la grande bellezza il TV OLED per quanto mi riguarda. Io sono rimasto tra l'istasiato e l'ipnotizzato di fronte a qualsiasi tipo di filmato che fosse ultra HD 4K, ovviamente, che avesse HDR e magari anche il supporto a Dolby Vision. Ad esempio Disney Plus, tantissimi contenuti, appunto come Star Wars e tanti altri, hanno il Dolby Vision, è davvero la cosa incredibile. Poi su YouTube si trovano dei filmati ad hoc per vedere la qualità degli OLED e vi assicuro si rimane di stucco. Altra cosa è ovviamente se invece le fonti sono Full HD o SD addirittura come il digitale terrestre. In questo caso non comprate una OLED, cioè la differenza comunque migliora l'immagine, sia chiaro, ma non vale la spesa. Questo è chiaro, quindi sappiate bene che anche ad esempio PlayStation 4, la mia, quella Full HD, non 4K, nonostante il supporto all'HDR, idem Xbox One, sempre Full HD, sì, migliorano l'immagine, ma non varrebbe davvero comprare un OLED per le vecchie console. Ora vi ho detto tutto questo e io vi rinnovo, come dire, la mia opinione, il C9 DLG secondo me è la TV più adatta per alcune esigenze ovviamente per PlayStation 5 e Xbox Series X. Ovviamente ve ne riparlerò su questa TV che vedete in queste immagini, quando usciranno Xbox Series X e PlayStation 5 e ci sarà modo dunque di provarle con le nuove console. Volevo quasi fare un filmato della TV e delle immagini, ma avrei dovuto riprendere con il cellulare e veramente non avrebbe dato la sensazione che invece si provano, quindi ho preferito utilizzare queste immagini del TV. L'ultima cosa che volevo dirvi è che questa TV ha tutte le app, ovviamente, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Dazon, eccetera, eccetera. Ottimo il telecomando che funziona da telecomando tradizionale o da puntatore, davvero ottimo. C'ha anche in mezzo una rotellina per scorrere, ad esempio, fra i canali ed altro e ha pure i comandi vocali, sia di Google che di Alexa e non li uso così frequentemente, ma ad esempio su YouTube può essere molto comodo, invece di digitare tutta la stringa di ricerca, parli vicino al microfono del telecomando e devo dire che riconosce abbastanza bene i comandi. Dunque, dunque, io questo è il mio consiglio, questa è la mia opinione, però davvero ognuno è libero di giocare sulla TV o il monitor che vuole. Io vi ringrazio per l'attenzione.